Buongiorno, desidera. Buongiorno, vorrei un po' di formaggio e un etto di parmacotto. Eh, mi dispiace signora, il parmacotto non ce l'ho, però le posso dare... Ah, ma non importa. Mi dia delle olive verdi e due etti di parmacotto. Mi scusi, forse non mi sono capito, ho tralasciato il parmacotto, non ce l'ho. Però le posso dare un altro che è buono lo stesso. A me se non ha quelle verdi, mi dia quelle nere. Quelle nere. Però magari me le fa tre etti di parmacotto. Ci abbiamo il parmacotto? No, eh no. Ah, ho capito. Ah, ho capito. Mi dia quattro etti di parmacotto e non ne parliamo più. Ma che mamma ha mandato questo a me? Boh, se le ghettava meglio. Sta zitto, che fai? Che t'allarghi? Serve parmacotto? Oh, ma poi devi bere prima, la signora ha fatto la testa. Pronti con il parmacotto? Dai, pure, valla a pia, che fai? Serve altro? No? Chi chiede parmacotto vuole solo parmacotto.